Come vi stavo dicendo, questa pistola elettronica è per aiutare a ristabilizzare l'equilibrio sia nella schiena, nella cervicale, nelle braccia, ovunque nelle gambe, sciatica o qualsiasi altra cosa che in questo momento potrebbe farvi male, ma quello che vi raccomando è di usarla con la perfezione. Magari guardate alcuni video che cercherò di fare in questi giorni per poter trovare l'equilibrio giusto nel dare i colpi. Io per esempio ho avuto problemi per le braccia e lo proietto proprio nel muscolo. Adesso io sto per sparare, vedete? E ristabilisce l'equilibrio in questo momento della spalla, vedete? Comunque avete un problema potete sparargli con il giusto sentimento di professionalità. Certamente, appena comprate la pistola, non vi mettete a sparare senza leggere e guardare e ispezionare ciò che è giusto fare e dove sparare. Questa è la pistola elettrica che la potete usare dappertutto del vostro corpo senza problemi di cose negative perché sono cose positive. Adoperandoli io personalmente non ho trovato nessuna difficoltà. Adesso spengo questa e vi faccio vedere quest'altra pistola massaggiatore. Questa è ancora più semplice che la potete usare quando volete non riscalda e quando si spegne la potete ancora accendere di nuovo perché da subito, vedete? Qui c'è il pulsante start, già è accesa la potete regolare con le gradazioni più di qua vedete di qua si spegne di qua si accende e di qua si fa più vedete stanno aumentando ecco di qui si avanza e da questa parte si diminuisce i voltaggi e la pressione questa la potete usare come massaggiatore in tutto il corpo senza nessun preambolo di difficoltà vi mantiene il sangue in equilibrio ancora scioglie tutti i muscoli di qualsiasi aggrappamento vedete nelle dita nella cervicale nel collo io faccio tutto da solo vedete vedete vi faccio notare qui a brevemente come usarla e poi la potete usare voi come volete la potete mettere al massimo certamente mettendola al massimo la batteria c'è bisogno più svelta da caricare invece messa piano piano come all'inizio la durata è molto più lunga ma questa non ha importanza perché a 5 minuti mettendola sotto carica è già carica vedete le spalle in giro bene questo è l'indizio come faccio in questo momento qui faccio in tutto il corpo nelle gambe nelle ginocchia nella testa nel viso nel terzo occhio nella testa quello che vi sto dicendo nella testa andateci con calma piano piano finché tutti i movimenti vengono fatti con precisione e vedrete come cambia la vostra vita cambia tutto ringiovanite giorno dopo giorno la pelle, il viso e tutto prende vita ecco io adesso chiudo vi ho fatto notare alcune cose è semplicissimo ciò che vi ho mostrato poi se avete dei dubbi cliccate il mio sito io in questi giorni avrò molto più tempo perché mi sembra che ho lavorato molto e voglio riposarmi un po' di giorni certamente certamente andrò in Sicilia domani partirò per il viaggio di ferie giù allegata e lì avrò molto più tempo farò moltissimi video sicuramente e vi terrò aggiornato nel mio sito il nome del mio sito è www.gesulalucedelmondo.it digitando questo numero questo nome troverete tutti i video che farò in questi giorni di tempo disponibile disponibile di ferie ora vi lascio con una piccola preghiera che possa il Signore benedire la vostra vita e anche la mia ancora di più di quando la sta benedicendo sempre vi ricordo che quando vi sentirete bene guariti da ogni problema non vi dimenticate che dobbiamo costruire la grande clinica qui a Darmstadt in Germania dove chiunque verrà sarà aiutato liberato da ogni iniquità da ogni problema e la salute possa tornare su quella persona ma per fare questo dobbiamo costruirla e c'è bisogno il vostro aiuto finanziario sappiate che non dovete spedire denaro se mai vi sentite bene o aver avuto un'esperienza con noi che vi ha portato giovamento salute forza e potenza dall'alto questo è il motto mio e del Signore non affettatevi subito come sentite la richiesta di un'offerta e subito sperite l'offerta no perché non voglio che mettete il vostro denaro senza sapere a che cosa serve e a che cosa ha prodotto nella vostra vita allora quando sentirete il beneficio della vostra vita o la vita di qualche vostro parente o qualche vostro familiare che è guarito allora vi prego di farlo sempre vi ripeto che il biglietto visita lo troverete sia nel mio sito che in tutti i miei profili e in tutti i miei video che farò da oggi in voi caricherò il numero e il nome della banca e tutte quelle cose che servono per spedire la vostra offerta sappiate che se spedite del denaro dall'Italia e la banca è qui in Germania dovete scrivere anche il beach sotto sono altri numeri che dovete aggiungere questo troverete tutto nel mio sito e nei miei profili adesso vi saluto con una piccola preghiera di benedizione del Signore Dio Onnipotente e Gesù Cristo Padre Santo Dio d'amore nell'amore e nella grazia del tuo figliolo vogliamo dirti grazie per tutte le cose che tu stai facendo fare a noi nella tua parola nella tua grazia nella tua felicità tu ci hai messo nelle condizioni Padre di poter fare secondo la tua volontà ogni cosa come tu hai prefissato da lungo tempo Padre continua a benedirci con questa precisione con questo amore con questa grazia che tu ci hai trasmesso di portare avanti questo progetto nell'amore e nella grazia del tuo figliolo Gesù grazie Padre ancora che tu possa benedire tutti gli ammalati i carcerati le vedove i bambini senza tetto gli orfani Padre ancora per quelli che sono in gomma Padre fai che possano svegliarsi al più presto e tornare nella vita odierna grazie Padre ancora per questo e benedici tutta l'umanità Padre soprattutto benedici ancora quello che in questo momento abbiamo più di bisogno la libertà la felicità e la tua grazia in Cristo Gesù grazie Padre nel nome di Cristo Gesù che tu l'hai benedetto in eterno Amen Amen cari della grazia vi saluto nella pace del Signore ci sentiremo al prossimo video Dio volendo se domani mattina ho qualche pochettino di tempo perché parto nel pomeriggio farò ancora qualcos'altro e sicuramente mi vedrete a Dio se la lode e la gloria è in Cristo Gesù Amen chiudo con la benedizione di Dio e di Gesù pace da fratello Angelo Picone servo dell'Eterno Amen Amen